Amici dell'orizzonte degli eventi, buonasera, bentornati. Bentornato al professore Edoardo Ciampi, bentornato sull'orizzonte degli eventi. Grazie, grazie a te dell'invito. Edoardo mi ha proposto una puntata da dedicare a un personaggio che ha tradotto. Parliamo di John Ruskin, scrittore, poeta, critico d'arte. Allora, ti lascio immediatamente la parola per introdurre questo John Ruskin che ha avuto tanta importanza anche nell'architettura, nell'interpretazione anche del restauro. Aveva una sua idea molto particolare sulla conservazione di quelli che si definiscono i beni culturali, le opere d'arte dell'antichità e anche sulle tecniche di restauro. Quindi ti lascio immediatamente la parola per l'introduzione a John Ruskin, nato nel 1819 e morto nel 1900. Quindi esattamente. In maniera precisa, insieme a Vittoria. Allora, sì, buonasera, parleremo di John Ruskin e soprattutto cercheremo di far capire agli ascoltatori, anche italiano, al pubblico italiano, qual è l'importanza di questo scrittore. Perché oggi, in effetti, tra i lettori contemporanei, soprattutto in Italia, è difficile riuscire a capire quella che è l'importanza dell'opera di John Ruskin. Che non si limita a quella di critico d'arte, perché lui è passato la storia come critico d'arte. Indubbiamente quella sua funzione la svolta a livelli alti. Pensiamo anche, poi andremo a vederlo, insomma, pensiamo alla crociata che fece a favore dell'opera di Turner. Pensiamo alla scoperta dei pre-Raffaelliti. Quindi era una mente capace di cogliere l'importanza dell'opera d'arte, della bellezza dell'arte. Però John Ruskin non è stato solo questo. Come hai annunciato te, era un personaggio eclettico. Ora, l'eclettismo oggi viene considerato come qualcosa, dice, ma sai, è un tipo eclettico, fa un po' di tutto, fa un po' di niente. Sì, spesso oggi l'uomo contemporaneo tende ad avere questa modalità di eclettismo. Il vero eclettismo era altra cosa. L'eclettismo era colui che aveva una conoscenza tale di poter davvero su qualsiasi argomento. John Ruskin conosceva perfettamente la letteratura inglese e europea in generale. Cioè era un esperto di Dante, conosceva la letteratura tedesca, la letteratura francese. Te lo dico a fare l'inglese, insomma, aveva contatti anche con poeti, con Wordsworth. E quindi aveva quel settore là. L'arte, lui stesso era artista, pittore, disegnatore, raffinato, e quindi la critica d'arte. Lui fece degli studi approfonditissimi su tutta quella che era stata la storia dell'arte antica e contemporanea a lui, ovviamente. Per contemporanea si parla di romanticismo e tardoromanticismo, perché quella era l'epoca a lui contemporanea. Ma è stato anche un grande pensatore, un grande filosofo. Ci sono dei saggi, soprattutto quelli sui quali mi sono dedicato io, mi sono un pochino impegnato. Sono saggi che vanno ad affrontare tematiche profonde, il senso del sacro. Il senso del sacro ho trovato attraverso la bellezza, la bellezza delle forme, la bellezza dell'arte. E quindi è indubbiamente un personaggio molto, molto più importante di quello che si è pensato. Infatti forse per capire quella che è stata l'importanza di John Ruskin vale la pena citare, ricordare che un romanzo famoso, Camera con vista, di Forster, del quale peraltro sicuramente ricorderai la versione cinematografica. C'è una parte del romanzo in cui il personaggio principale, Lucy, si trova in difficoltà in quanto in Italia senza la sua guida artistica e dice magari ci fosse Mr. Ruskin qui vicino per potermi dare una mano. Quindi una citazione del genere in un romanzo scritto nel 1908, sia otto anni dopo che Ruskin era morto, peraltro morto abbastanza in disgrazia, vorremmo dire, poi vedremo di quella che è stata un po' la parabola anche discendente di Ruskin, anche diciamo come notorietà, perché Ruskin sì è stato amato, ma è stato anche molto odiato, perché? Perché era un autore e un pensatore che non si allineava col pensiero moderno, materialista, positivista, progressista, evoluzionista. E quindi un personaggio del genere, se nel romanticismo da giovane, diciamo, ancora aveva un senso, nel tardo romanticismo cominciava ad essere fastidioso. Addirittura ci sono degli articoli di giornale in cui certi giornalisti dicevano questo signor Ruskin ci lo dobbiamo levare dalle scatole perché è un personaggio un po' fastidioso, dice cose che non vanno bene per quella che era l'economia del tempo, la visione dell'economia che tendeva appunto al capitalismo, lo sfruttamento e così via. Ruskin si è anche impegnato nel sociale, nell'economia, ma lui murava non tanto all'economia dell'uomo, per lui l'umanità era l'elemento centrale della sua opera, del suo pensiero, della sua preoccupazione. Ed è molto attuale anche questo perché siamo in un'epoca in cui l'umanità è decisamente minacciata da tanti aspetti della società che ci circondano, pensiamo non ultimo all'intelligenza artificiale che diventa di fatto uno strumento che tenta di sostituire quella che è l'umanità, soprattutto poi nella parte creativa, quella è ancora la cosa più inquietante. Tempo fa a Torino, c'era proprio un'intervista, ebbe un'intervista proprio per la pubblicazione di un libro di Ruskin alla Fiera di Torino, e poco prima di me intervistarono un signore che aveva scritto un dialogo con l'intelligenza artificiale. Insomma, ecco, quindi il lasciare spazio a queste realtà rischia di disumanizzare. Lui invece era per la valorizzazione al massimo dell'umanità. Tanto è vero che in una raccolta che ho fatto di sue lezioni l'ho intitolata proprio Lezioni di Umanità. Ruskin era anche apprezzato da tanti altri artisti. Pensate che Walsworth, il poeta, del late poet, del primo romanticismo, era un suo grande ammiratore. Proust, Marcel Proust, scrisse addirittura una prefazione a alcune sue opere. Gandhi, il famoso Gandhi, leggeva Ruskin, leggeva Tolstoi. Addirittura Charlotte Bronte affermò di non aver mai percepito realmente cosa fosse l'arte visiva finché non lesse Modern Painters, che è stata una delle opere principali di Ruskin, di critica artistica, di studio sull'arte, dell'arte del suo tempo. Infatti Modern Painters li ha chiamati pittori moderni. Addirittura lei, Charlotte Bronte, disse che Ruskin attraverso questo libro le aveva donato nuovi occhi praticamente, quasi le aveva permesso di vedere davvero cosa si vede attraverso altri. Quindi sicuramente è un personaggio importante, però un personaggio importante che ha avuto pure un declino abbastanza veloce. Come dicevo, già nel tardo romanticismo la sua figura ha cominciato un pochino ad essere poco amata, è stata messa un pochino da parte, poi vabbè ci sono state una serie di calugne, ne parleremo perché si parlerà anche un pochino della sua biografia, andremo sul particolare. Ma è lo suo storiografo Clark, che negli anni Sessanta scrisse un paio di biografie di Ruskin, confessò che di fatto, è pur vero che ha avuto una parabola ascendente notevole, ma dopo la sua morte è stata pure anche veloce la sua perdita di reputazione. Insomma, lui aveva scritto ben 39 volumi, ma di fatto poi dal Novecento in poi è andato sempre meno a raccogliere l'interesse dell'uomo moderno, che evidentemente si sta muovendo in un'altra direzione. Cioè il pensiero di Ruskin diventava obsoleto, diventava anche assurdo, ecco per certi versi. Anche se, devo dire la verità, l'editoria italiana, grazie anche a un grosso studioso, Giovanni Leone, che ha fatto un bellissimo volume sulla terza, ottimo traduttore, devo dire la verità che insomma in Italia una certa attenzione c'è stata, insomma di questi 39 volumi quasi la metà sono stati tradotti. Mi sono accorto, appunto facendo un lavoro di traduttore, poi amando molto, insomma conoscendo un pochino l'arte inglese, la letteratura inglese, questo nome di Ruskin, insomma già da quando ero studente era entrato più volte nella testa, ha detto prima o poi, dico vorrò approfondire. Ho approfondito, ho scoperto che ci sono tanti bei libri che non sono stati tradotti e mi sto un pochino a dedicare. Lui peraltro era anche un grande esperto di mitologia, mitologia greca, sto per esempio traducendo recentemente un saggio sulla figura di Atena, la regina dell'aria, the queen of the air, dove lui dimostra davvero di avere contezza proprio a mena dito di quelle che sono, di quella che è tutta la mitologia greca. Quindi conosceva il greco peraltro perfettamente, infatti ogni tanto citava, cita pasti in greco. E quindi ecco abbiamo a che fare con un personaggio davvero notevole. Oltretutto anche l'aspetto religioso entra in ballo. Lui è stato educato in maniera puritana dalla madre, e loro venivano dalla Scozia, come hai detto giustamente te, da Edimburgo, e poi si sono stanziati in Inghilterra, ma la madre era, insomma, uno la potrebbe definire un po' una bigotta, cioè una che al ragazzino gli metteva in mano la Bibbia ogni giorno e faceva leggere dei passi. Cosa che poi lui in seguito nei suoi preterita, che sono insomma i suoi ricordi di vecchiaia, disse che era insopportabile per lui in quell'epoca, però poi con gli anni capì quanto importante era stato conoscere la Bibbia, perché poi chiaramente riusciva bene a decodificare tutta l'arte simbolica tradizionale, religiosa, grazie a quella fatica che da bambino ha dovuto fare. Quindi abbiamo a che fare con un personaggio di notevole livello. A proposito del religioso, lui aveva come ideale la perfetta condizione morale, ossia l'umanità doveva avere una perfetta condizione morale tale da poter trovarsi in armonia con il creato. All'altronde spesso si parla che l'inquinamento, di cui si parla tanto oggi, non sia altro che un riflesso dell'inquinamento interiore dell'anima. Ossia se l'anima è in disordine, è inquinata, necessariamente è inquinata anche il fuori. Quindi lui potremmo dire un ecologista antelittera, che però non si preoccupa di andare a agire sui risultati, ma sulla fonte, sull'anima dell'uomo, perché se l'anima dell'uomo lo si libera di quella grettezza, è chiaro che ha un rapporto diverso. Tra l'altro lui ha sempre diffidato per la storia intesa come progresso evolutivo, ma vede la storia come tanti aspetti diversi di un'unica verità, quella della rivelazione. E a tal proposito mi permetto, e in questo itinerario che faremo ogni tanto citerò qualche passo, mi permetto di citare il primo passo, che deriva da pittori moderni, questi sono, se non sbaglio, cinque volumi. Allora lui dice, la funzione e l'utilità dell'uomo, e chi non ammette ciò non mi segua oltre, poiché questo è il mio presupposto costante, consistono nel testimoniare la gloria di Dio, accrescendola attraverso una ragionevole obbedienza e la felicità che ne segue. Allora questo passo è molto intenso, intanto intrapparente si dice, chi non ammette ciò non mi segua oltre, come per dire, ragazzi io la penso così, quindi se non avete questa funzione è inutile che è stata a venire appresso a me. E quindi dire che, testimonare la gloria di Dio va bene, accrescendola attraverso una ragionevole obbedienza, anche ragionevole, come per dire, sa quanto l'uomo, e poi dice, la felicità che ne segue. Ecco, questo aspetto è molto bello, cioè la felicità di seguire, di testimonare la gloria di Dio e seguirla in obbedienza. Quindi aveva una visione chiaramente sacra dell'esistenza. Ecco questo, un autore del genere, fine ottocento, primo novecento, in pieno materialismo e progressivo ateismo, era un qualcosa di decisamente poco digeribile. Lui fu famoso per le sue lectures, ovvero per le sue lezioni, le sue conferenze, che teneva in luoghi accademici, o anche meno accademici, alle quali partecipavano molte persone, anche molte donne, perché lui peraltro in alcuni testi pure ha scritto delle belle lodi del femminile, anche se da una prospettiva, non certo femminista, ma una prospettiva tradizionale, che vende nella donna una realtà che è ben superiore a quelle che sono le richieste magari formali del femminismo. Questo ecco per avere un'idea di quello che è stato John Ruskin. Ecco, si può definire, come avrebbe detto Litton Stracci, che era un eminente vittoriano? Sì, lo era per tanti versi, però la società vittoriana è stato uno dei suoi principali obiettivi di critica. Cioè, lui viveva in quell'epoca, apparteneva a quell'epoca, aveva anche per certi versi l'aspetto fisico del tipico vittoriano, i suoi bei basettoni e così via. Però la critica è forte, anzi addirittura il suo stile, il suo stile di scrivere, è stato considerato poco vittoriano, perché è uno stile un po' disordinato, è uno stile che ama la divagazione, parte da un punto e attraverso una serie di giri, poi ritorna in quel full rouge, ma è faticoso pure seguirlo. Devo dire la verità, tradurre Ruskin è costata molta fatica, a me e all'amico col quale facciamo le correzioni delle bozze, perché, insomma, si muove poi con tante secondarie, cioè, era molto libero come modo di scrivere, quindi, formalmente, è stato considerato poco vittoriano come stile. Lui è stato anche poeta, da giovane ha vinto anche dei premi letterari di livello, che lui ha scritto anche una fiaba molto nota, non so se la conosci, The King of the Golden River, il re del fiume dorato, che è una fiaba molto bella, edificante, che lui scrisse poi, vedremo per chi, perché è molto legata la sua biografia. Insomma, quello che mi dicevi tu, è relativamente d'accordo, sì, certi aspetti del vittoriano, l'aveva, ecco, il fatto pure che è morto nel novecento, quasi, chi è più vittoriano di lui, morire insieme alla vittoria, chiude un ciclo. Ecco, per andare alla biografia di Ruskin, lui nasce in un contesto già culturale, oppure scopre questa sua vocazione all'esaltazione della cultura e anche del bello, della bellezza, cosa che oggi, in epoca di controestetica e di estetica del brutto, anzi dell'orrido, ce lo fa riscoprire con grande piacere, perché ovviamente... Per quello riscoprire, Ruskin, per ricomprendere il senso del bello. Sì, la domanda che mi fai tu è sì e no, nel senso che lui veniva da una famiglia borghese, il papà è commerciante di vino, benestante, la mamma, un background un pochino più culturalmente valido, ma culturalmente legato alla cultura tradizionale e religiosa, e quindi quello ha trasmesso che non è poco, attenzione, poi lo stesso Ruskin lo rivelerà, che insomma è stato utile. il papà però aveva un aspetto positivo, diciamo che questo potrebbe aver aiutato il figliuolo, nel senso non era un commerciante di quello che pensava a fare i soldi e basta, amava la letteratura, leggeva, soprattutto la poesia romantica, e aveva questo vizietto, vizietto, se lo poteva permettere, di comprare i quadri, comprava quadri di Turner, comprava quadri di Pruth, comprava i pittori dell'epoca, quei romanti. era un collezionista, insomma. Era un collezionista, ma ne capiva pure abbastanza. Quindi il figliuolo, crescendo insieme a papà, cioè la mamma da un punto di vista gli dava quell'inquadratura religiosa, il papà, insomma, letteratura, e un pochino nel mondo della cultura c'è finito. Poi certo, ha fatto anche un lavoro personale molto forte, molto potente, poi lui ha studiato, lui è andato all'università, ma ecco per dire che tipo era la mamma, lui quando andò all'università, ad Oxford, la mamma andò insieme, lo accompagnò e si prese una stanzetta lì vicino. Ecco, poi tante volte ci chiediamo le difficoltà, i problemi che ebbe Raskin anche nelle relazioni col femminile. E con una mamma così eprimente è difficile che un ragazzo possa sviluppare una certa indipendenza, una certa capacità di relazionarsi col senso femminile. È normale che vengono poi delle forme di difficoltà che poi si riveleranno come vedremo in seguito. lui peraltro già da giovane mostrò qualche problemino di esaurimento nervoso sia per gli studi e sia anche per qualche prima diciamo delusione in amore. Cioè lui si era innamorato di una ragazza e poi insomma evidentemente non aveva gli strumenti per dichiararsi, per farsi avanti, la cosa finiva una bolla di sapone, ma essendo una persona un ragazzo molto sensibile ne soffrì molto e quindi in quel periodo gli studi ebbe i primi segni di esaurimento nervoso. Gli dico perché questo tema poi in tarda età sarà determinante perché lui finirà dico pazzo ma insomma finirà in uno stato di alterazione mentale abbastanza grave. E poi ecco la cosa importante è che stando economicamente bene i genitori gli diedero l'opportunità di viaggiare sia per motivi di salute perché lui aveva un pochino di problemi quindi si tendeva ad andare al sud quindi in Italia la Liguria il mare e così via ma anche viaggi insomma di cultura lui studiò anche molto geologia ecco per esempio un altro aspetto di Ruskin che non conoscevo ma sono andato a approfondire era un grande studioso di geologia e si vede anche quando lui dipinge o disegna perché ha una capacità nei tratti di sapere esprimere quello che è le strutture delle montagne e quindi lui visitò molto la Svizzera la Germania la Francia l'Italia le Alpi lui era molto attratto dal paesaggio alpino soprattutto negli anni dal 40 in poi fece moltissimi viaggi e tra l'altro gli permise anche questo di entrare in contatto con l'arte di quei paesi soprattutto l'arte italiana l'arte antica italiana che indubbiamente a lui interessava per quel che riguarda i suoi contemporanei i suoi preferiti erano Turner William Turner e Samuel Prout è un pittore un po' più manierista ma insomma a quell'epoca era considerato un grande ovviamente il fagottoso papà gli permise pure di comprarsi qualche quadretta e di metterlo nella stanza sua un aspetto importante della sua biografia ecco come dicevo la fiaba King of the Golden River è del fiume torato una fiaba scritta nel 41 questa fiaba è connessa alla frequentazione di una nuova ragazza una certa Effie Gray i genitori vedendo le difficoltà di questo ragazzo a relazionarsi con donne e soprattutto i problemi anche che aveva a livello nervoso cioè capirono che aveva dei problemi questo ragazzo gli troviamo una bella mogliettina e lo sistemiamo in realtà questa operazione non funzionò anzi andò come spesso succede quando le scelte non si fanno personalmente andò andò male comunque sicuramente la fiaba aveva a che fare con Effie Gray perché la ragazza gliela chiese quando era giovanissima gliela chiese perché non mi scrive una fiaba oh stiamo parlando che era una ragazza che aveva 12 anni cioè quindi lui la conobbe che aveva 12 anni poi nell'età maggiore gli fu proposta come moglie il matrimonio tuttavia fu annullato dopo sei anni dalla chiesa anglicana in quanto di fatto non è stato consumato oh su questo aspetto ci sono tante poi vi parlerò anche di alcune recenti indagini che ha fatto un giornalista molto interessanti ma lo vedremo dopo intanto questa questa ragazza questa Effie Gray era figlia di un cliente del papà che era indebitato con il papà già questo particolare mette la situazione in un piano che non è bello cioè fare un matrimonio in questo contesto non lo vedo molto bene lui sicuramente la sua debolezza fu quella di accettare passivamente quello che mamma e papà ti chiedevano di fatto lui rispose a questa dimuncia di impotenza da parte della moglie perché lei lo lasciò chiede la separazione per questo aspetto lui la debitò al fatto che non aveva attrazione per questa donna comunque fatto sta che lui si separò questa donna l'anno appresso si legò a un altro pittore pre-Raffaelita che peraltro frequentava la casa di Turner e la vita sentimentale di Ruskin andò avanti nelle contraddizioni nel senso che nel 66 ebbe come studentessa una bambina di 10 anni si chiamava Rose Latouche nome alla francese lui si innamorò di questa bambina attenzione non necessariamente uno deve pensare a una situazione di pedofilia ecco su questo è importante riflettere perché poi è stato facilmente accusato di questo John Ruskin in realtà lui che cosa fece aspettò che questa bambina raggiungesse l'età maggiore per chiederle la mano cioè si usava a fare così insomma certo c'era una differenza di età notevole oltretutto i genitori di questa bambina si informarono un po' andarono a parlare con la moglie precedente e quella che avrei mi ha detto e quattro e questi hanno detto no no l'hanno messa nelle condizioni di dire di no di negarsi e sia John Ruskin rimase delosissimo sia la ragazza e buon esaurimento nervoso e dopo pochi anni morì quindi siamo in una situazione davvero dal profilo affettivo molto drammatica molto drammatica oh e ritornavo al discorso della del rapporto con i bambini Ruskin aveva un rapporto molto bello con i bambini ma avere un rapporto bello con i bambini non è che significa necessariamente essere un pedofilo ecco chiariamo questo concetto perché lui per esempio frequentava una scuola femminile e tra l'altro da questa frequenza ne venne fuori anche un suo testo che tra l'altro ci sto lavorando pure per tradurlo forse per l'editore vediamo un editore di Milano l'etica della polvere sarà questa sono delle lezioni tenute in questa scuola femminile a Winnington ovviamente ci sono poi stati velenosi critici che hanno detto ah ah quello era un pedofilo e lui infatti si porta appresso sul gruppone anche questa questa sua questa sua chiamiamola non è poco diciamo un po' come scusa un po' come Lewis Carroll che ha condiviso lo stesso lo stessa effettivamente questo però il tema è quello certo comunque fatto sta che nel 64 muore il papà lui si trova una considerevole patrimonio e decide di mettersi una comunità di lavoratori chiamata la Gilda di San Giorgio una sorta di utopia fa un'operazione molto interessante nel 1870 dove praticamente lui acquista insieme a altri soci dei terreni si dedica all'agricoltura oggi potremmo dire biologica nel senso che cerca di curare l'aspetto del rapporto tra uomo e terra quindi non voleva l'utilizzo di macchine quando proprio in quell'epoca stavano costruendo e stavano investendo in quel settore lui andava controcorrente i cavalli e quindi utilizzo dell'etame come poncime quando già in quell'epoca cominciavano a pensare le prime e quindi era controcorrente tanto è vero che poi questo progetto fallì ovviamente dopo pochi anni poi con la sua morte insomma anche se esiste ancora se andiamo su internet The Guild of St. George c'è in Inghilterra in quell'area lì c'è un'associazione che custodisce quell'area fa visite ma insomma di fatto l'idea non c'è stata più cioè lui di fatto aveva un'attività filantropica ma non di quelle moderne alla Bill Gates era un vero filos dell'antropos si amava amava l'uomo e la donna diciamo pure e lo dimostrava perché in queste in questa sua chiamiamola Gilda questa sua associazione che cosa faceva lui non solo metteva a disposizione a tanti contadini che avevano difficoltà di lavorare della terra e organizzava anche la produzione di tessuti ma era partito davvero con una bella organizzazione ma si preoccupava anche di coltivare l'aspetto culturale di questi contadini lui dava lezioni di musica lui era dilettante musicista se aveva sonato il pianoforte e dava lezioni di musica a questi ragazzi e ai figlioli di queste persone quindi è questo un aspetto molto interessante e nel sociale è stato forse poco apprezzato cioè l'importanza appunto di vedere la persona e non solo il lavoratore ok insomma questa fu la parentesi della Gilda di San Giorgio muore anche la madre nel 71 e lui si ritira a Brentwood che è una contea del Cambria a nord ovest dell'Inghilterra nel Lake District ovvero quell'area che era stata tanto importante nel primo romanticismo per Walsworth Coleridge e così via e venne diciamo nominato professore delle belle arti Slade Professor of Fine Arts a Oxford e cominciò quella serie di lezioni di cui parlavamo prima per esempio la lezione Il Nito dell'Aquila una delle quali ho tradotto anche lezioni sull'arte che recentemente ho pubblicato per i tipi di Irfan però indubbiamente dopo la morte della Latouche cominciò a dar segni di instabilità mentale ci furono anche degli episodi abbastanza particolari ci fu anche un processo di diffamazione al 78 intentatagli dal pittore americano Whistler che a suo parere era stato offeso nella sua arte e lui mostrò durante il processo dei segni quasi di follia e quindi cominciò a essere seguito accudito dalla cugina sempre nella tenuta di Brantwood pensate che addirittura nella sua follia era convinto di essere sposato a questa Rosa Latouche e addirittura che come da Migella d'onore ci fosse stata Giovanna d'Arco quindi ecco nella fase finale della sua età lui non ci sta più con la testa e qui stiamo parlando degli anni già 80 fine anni 70 anni 80 tant'è vero che gli scritti si fermano quasi tutti negli anni 70 e qualcosina ha scritto dopo e poi la segnare qualcosa pure di molto particolare io vorrei dire anche qualcosa sulla cinematografia perché io so che te sei molto attenta al cinema e anche gli ascoltatori recentemente sono stati prodotti due film dove compare John Ruskin allora sono due film abbastanza recenti uno del 2014 si intitola Turner ed è dedicato a Turner con la regia di Mike Leif e il nostro Ruskin viene presentato come un giovane saccente e presuntuoso uno smorfioso proprio di figlio di papà con la zeppola parla pure con la zeppola pensate che è una vera e propria caricatura dell'intellettuale Ruskin quindi pensate nel ventesimo anzi il ventunesimo secolo come si vuole vedere Ruskin e forse c'è anche un motivo per metterlo così alla berlina ma quello è un cretino non lo leggete neanche che hai visto mai vi si aprisse qualche valvola e poi cominciate a pensare con la testa vostra nello stesso anno Effie Gray film dedicato non a John Ruskin ma a Effie Gray alla figura femminile con la regia di Lexton e la sceneggiatura di Emma Thompson attrice ex compagna di Kenneth Branagh ebbene in questo film dove parla appunto del loro matrimonio lui appare come un debole un egoista un insensibile un misogeno e c'è proprio la scena del matrimonio che rimane quasi impotente alla visione di questo pube femminile ora indubbiamente i problemi nella sfera dell'Eros c'erano e Ruskin abbiamo pure capito come mai potevano esserci però attenzione la figura di questa Effie nel film è un pochettino diciamo pompata in realtà c'è stato un giornalista contemporaneo Philip Hoare che sul Guardian nel 2014 ha pubblicato una lunga difesa a Ruskin proprio in relazione a questi film ossia lui sostiene che queste due drammatizzazioni fanno torto a Ruskin tutte e due perché in realtà lui sostiene che più che per essere disgustato della fisicità della moglie si può stare fino a un certo punto lui era un atteggiamento più che altro del credente cristiano che si sentiva inibito ad affrontare un'unione sessuale che è un'unione molto profonda nella misura in cui non ne vedeva le premesse affettive e il necessario amore reciproco e lì le premesse non c'erano perché lui in questo matrimonio lo ha subito ora comunque queste chiacchiere ci interessano fino a un certo punto noi cerchiamo solamente di capire chi è stato Ruskin e cercare di non farne un mostro perché vi posso assicurare che il film Effie Gray davvero fa un lavoro deteriore cioè ecco se uno va a vedere un film del genere sicuramente non sarà interessato a leggere un libro di Ruskin dice che mi vado a leggere un libro di questo perverso o di questo egoista ora se noi invece cerchiamo di vedere altri aspetti della vita di Ruskin e leggiamo anche quello che scrive ci troviamo di fronte a una situazione decisamente diversa se tu vuoi aggiungere qualcosina se no anche perché una difficoltà delle biografie è proprio andare a cercare quella che è la realtà storica di un personaggio sul quale si è scritto e soprattutto possono essere state scritte delle cose da parte di persone che ce l'avevano con ecco è chiaro che se io interpreto la biografia di qualsiasi personaggio leggendo quello che ne ha scritto che ha testimoniato chi non l'aveva in simpatia per usare una metafora è chiaro che il ritratto biografico può essere alterato come un quadro di Bacon e non quella hai scelto bene e non un bel ritratto vittoriano ne abbiamo parlato anche riguardo ad Axley quando abbiamo parlato tra l'altro ho seguito anche la biografia di Giannaccone che in effetti ne fa un altro disegno interessante cioè gli studi chiaramente cercano di mettere alla luce tanti aspetti della biografia e della vita dello scrittore o anche dell'opera poi sta al lettore tirare le somme insomma dare un giudizio ripeto Trancheanne non mi pare una cosa bella nel confronto poi di un essere umano come noi con i suoi limiti e i suoi pregi comunque John Ruskin non è quello del film e quindi chi andrà a vedere il film lo vado pure a vedere perché tra l'altro è un film che ha anche un suo fascino perché insomma ti cala bene in quell'epoca la pittoriana ci sono molti riferimenti alla pittura per Raffaelita chi ama quella diciamo ne trarrà anche interessanti riflessioni ma non è non è sicuramente un film che dà un'immagine di Ruskin veritiera allora un tema importante ecco quello della bellezza quello della bellezza che è una bellezza antica lui infatti si dedica soprattutto ai primitivi italiani ai pittori primitivi all'arte religiosa la bellezza lui la vede come una condizione oggettiva della natura secondo l'ordine divino ovvero una gerarchia un ordine sacro la parola gerarchia è ordine sacro ossia la natura esprime la bellezza come derivazione da una fonte superiore quindi in ordine gerarchico ecco a proposito di questo voglio citare un passo del nido dell'aquila allora in questo passo c'è una citazione iniziale di William Blake fatta appunto da Ruskin che è molto provocatoria dice l'aquila sa forse cosa c'è nella profondità di una buca o è meglio andarlo a chiedere alla talpa sarebbe impossibile esprimere in termini più succinti la grande verità che vè un diverso tipo di conoscenza buona per ogni diversa creatura e che la gloria delle creature superiori sta nell'ignoranza di quel che sanno quelle inferiori ecco questo è il modo di ragionare un po' di Ruskin per paradossi l'aquila sappiamo l'uccello che ha la capacità di vedere con gli occhi il sole quindi è uno degli uccelli simbolicamente più elevati più vicini al cielo al quale non dico che non è concesso ma non è il caso di andare a perdere tempo appresso le buche la buca è questione della talpa ovvio che questa è una visione gerarchica dell'esistenza della natura che non è molto amata dalla mentalità moderna che vuole tutti uguali ne abbiamo parlato quando parlavamo dell'utopia della distopia quindi Ruskin si pone davvero su questa linea invece di contrasto e di opposizione alla mentalità moderna del suo secolo che stava maturando nel suo secolo e poi darei i suoi frutti peggiori nel secolo successivo nel ventesimo e quindi questo nido dell'aquila anche come titolo la dice lunga su quello che è la visione sua della natura e della gerarchia che c'è in natura tu invece prima mi parlavi del restauro sì anche lui si interessa di restauro lui è venuto anche in Italia ha lavorato a Pisa Venezia soprattutto tantissimo lui era molto in linea con la tradizione del restauro ovvero che una sua affermazione dice il restauro è impossibile tanto quanto risuscitare i morti cioè lui era dell'opinione che meno mettevi mano e meglio era perché qualsiasi intervento soprattutto certi non poteva fare che cambiare qualcosa cioè cambiare quell'opera cioè non è più quella là sì meglio certo dei sistemi c'erano però per cercare di proteggere ma non tanto di andare a intervenire e questo un pochino un po' differenza rispetto come visione rispetto a quella di Violelle Duke che invece aveva una visione del restauro decisamente più di intervento anche se anche fatta con criteri indubbiamente lui era abbastanza preoccupato anche dell'avvento della macchina ecco pensa se ci fosse adesso di fronte all'intelligenza artificiale che cosa direbbe lui diceva che la macchina rappresenta il pericolo di annullare l'infinita variabilità di armonici processi di trasformazione che caratterizzano il giusto rapporto tra uomo e natura e a proposito di infinita variabilità si dice appunto che l'intelligenza artificiale ha un'infinita variabilità ma sono tutte variabilità tratte da informazioni e suggerimenti che sono stati prodotti dall'uomo mi spiego messi in un catalogo anzi addirittura arriva a dire che sostituire la macchina al lavoro dell'uomo diventa un peccato di hubris è un peccato di orgoglio di voler stravolgere quell'ordine sacro attraverso una forzatura e in effetti li stiamo vedendo i risultati perché poi i peccati di hubris venivano pagati salati nella nella mitologia greca o a proposito di libri scritti nell'81 dopo l'80 quando cominciava un po' a sbarellare c'è la nube tempestosa attenzione questo è un libro che ha pubblicato Castelvecchi recentemente ha tradotto ti suggerisco andarlo a vedere a leggere perché addirittura prevede il rapido aumento dell'inquinamento i cambiamenti climatici come riflesso dell'inquinamento dell'anima umana cioè lui addirittura fino a ottocento in quello stato un po' di confusione e poi rivaluta l'importanza del medioevo come età perduta di bellezza è un libro davvero molto piccolino piccolino si legge velocemente quindi è un consiglio alla lettura che diamo insomma questo per parlare di libri dopo gli anni settanta perché lui dopo questo credo sia l'ultima cosa che ha fatto poi ha scritto Preterita ma Preterita di fatto l'ha dettato erano degli appunti una sorta di biografia autobiografia in cui lui racconta alcuni episodi della sua vita tra l'altro è interessante come lettura ma diciamo fu dettato e scritto poi dalla persona che gli stava vicino che poi era una sua cugina l'importanza appunto della bellezza e dell'arte lui dice che ogni grande arte è lode l'arte è lode attenzione la parola lode lui fa una bella ricostruzione etimologica il termine lode lo collega alla parola love amore perché dal francese lui è lodare quindi lui sostiene che la parola love derivi dal termine lui è e l'amore in effetti è una sorta di lode per certi versi e quindi la grande arte è amore ovvero è lode questa è una sua intuizione è stato addirittura avvicinato raskin a simon veil per la sua capacità di cogliere certe intuizioni pre cristiane nella grecia nell'arte nell'arte nella cultura e nel mito greco e che peraltro risposte intuizioni che prevedono anche un po' la sventura le sventure dell'uomo contemporaneo e delle sue strade chiamiamole così pericolose delle sue strade avventurose nelle quali si è ormai avviato da da parecchi decenni o tra l'altro ecco tornando alla gilda di San Giorgio San Giorgio che l'abbiamo pure recentemente visto come figura mitica per lui quella quella gilda ovvero quella quell'utopia quella realtà associativa era un modo di combattere il drago dell'industrialismo ossia lui vedeva quella realtà come possibile alternativa per quanto utopica perché poi abbiamo visto come è andato alla dilagare dell'industrialismo con i ritmi di produzione e consumo e con tutte le connessioni di alienazione che ciò produce altri temi importanti ecco una cosa importante da dire che di fatto poi Raskin nella sua vita dovette andare incontro a molteplici fallimenti se vogliamo dire la verità a prescindere il fallimento che lui ebbe nella sfera affettiva che non è cosa da poco perché quelli sono fallimenti che segnano una vita perché senza amore è difficile campare ma anche la sua missione di riformatore sociale ecco quell'idea dell'utopia anche le lettere che lui scrisse per i lavoratori che erano per un'economia diversa che badasse più all'uomo che al profitto cioè di fatto è andato tutto in fallimento nel senso la strada presa dall'umanità è stata tutt'altra cioè il suo segnale c'è stato ma insomma ecco Gandhi lo apprezzò mi ricordo che parlava di queste famose lettere ai lavoratori però insomma è andata in una via diversa anche perché è una società che si stava sviluppando in maniera specialistica e lui col suo eclettismo col suo senso di olistico di vedere le cose non era neanche più comprensibile a chi invece c'era il proprio orticello da coltivare vogliamo parlare anche dire qualcosina di questi libri che ho tradotto insomma sì 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 molto volentieri sono tutte pubblicazioni abbastanza recenti e quindi è bene conoscerle cioè questo Nido dell'Aquila che è stata pubblicata nel 2019 poco prima del Covid e tutte le questioni relative e sono delle lezioni incentrate sulla relazione tra uomo scienza naturale e arte viste anche da una prospettiva tradizionale da un punto di vista delle virtù coltivate nella tradizione greca quindi è una lettura abbastanza impegnativa devo dire la verità non è un libro per tutti però ecco per dire l'indice la funzione nell'arte nella scienza della facoltà chiamata dei greci Sofia e quindi stiamo parlando di Sofia la relazione tra arte saggia e scienza saggia cioè il rapporto anche perché lui come artista sapeva perfettamente che l'artista tende a rappresentare la natura l'ambiente o coglierne attraverso dei simboli gli archetipi deve anche avere una conoscenza scientifica noi sappiamo che insomma anche lo studio del corpo umano aveva la sua importanza ma da quel punto di vista lui era abbastanza critico cioè non era di quelli che cioè giustamente aveva capito che non ci possiamo mettere a ricopiare perfettamente il muscolo la cosa ci sono anzi dei passi che anche critico su un certo tipo di scultura classica che era un po' perfezionista sul muscoletto curato alla fine diceva la cosa più importante è cogliere l'idea di quella di quell'opera che ossia attraverso un'operazione di anamnesi ritornare all'idea principale ecco i suoi quadri io ho visto un paio di paesaggi sono molto essenziali molto moderni potremmo dire moderni nella sua epoca dall'ottocento di fine ottocento però sì però possono essere potrebbe uno che li vede potrebbe anche scambiarli per dei quadri del novecento cioè hanno un'essenzialità nel tratto e una purezza di rappresentazione del soggetto che non ha quella leziosità dell'iperrealismo ma è un tratto molto anche molto sicuro molto preciso sicuramente infatti lui per me è anche stato un pochino trascurato come artista perché lui come pittore ha fatto delle cose di grandi livelli insomma già il fatto che parlavi di cose molto moderne già il fatto che amasse Turner che come romanticino la prima metà dell'ottocento faceva delle cose che faranno poi gli impressionisti ma dopo gli impressionisti addirittura la lezione impressionista la salta addirittura quasi espressionista questo senso di luce di assoluto quindi essendo abituato a quel modello anche lui ha saputo tenere botta insomma nelle sue rappresentazioni poi era un bravissimo disegnatore lui per esempio sulla copertina del Nito dell'Aquila lui si fa uno schizzo dell'Aquila altro libro che recentemente ho tradotto queste lezioni di umanità ossia una raccolta di due saggi ovvero Sesamo e Gigli e la corona dell'Ulivo Selvatico allora dici che titoli strani in effetti c'era un critico dell'epoca che diceva Ruskin mette questi titoli perché poi ci può mettere quello che gli pare cioè una situazione che non ci si capisce niente dice lui mette questo titolo e poi ci scrive quello che voleva in realtà si sono un pochettino ambigui Sesamo e Gigli che si sono due bei simboli Giglio e il Sesamo anche qui sono due simboli della tradizione cristiana nel Vangelo quante volte abbiamo sentito parlare del Giglio e del Sesamo in momenti pure chiave la corona dell'Ulivo Selvatico c'è un passo c'è una spiegazione comunque sono delle conferenze tenute anche qui in sede accademiche e meno accademiche addirittura una ne fece la fece in una scuola d'armi e parlava di guerra c'è un capitolo molto interessante della corona dell'Ulivo Selvatico il lavoro il traffico la guerra il futuro dell'Inghilterra quattro capitoli invece nella Sesamo e Gigli abbiamo tra i capitoli delle tesorerie dei re che parla dei libri ecco questo è un capitolo dedicato al libro chi ama il libro si legga questo primo capitolo di Sesamo e Gigli e dei giardini delle regine che parla della donna del femminile del mistero del fofianico del femminile e poi l'ultimo capitolo il mistero della vita e le sue arti queste sono due due lezioni due raccolte di lezioni che sono state tradotte nella loro completezza ossia c'erano edizioni precedenti che presentavano solamente due capitoli un e mezzo insomma qui ho fatto un lavoro di completezza e l'ho messo insieme e il titolo alla raccolta l'ho dato lezioni di umanità che non è un titolo di di Raskin ma è un titolo che come curatore ho voluto dare perché a mio parere si parla di umanità in questi in questi due saggi poi oltre a questi abbiamo recentemente l'edizione IRFAN ha pubblicato lezioni sull'arte che sono delle lezioni tenute nel 1870 tra l'altro in copertina c'è una bellissima sua riproduzione delle Alpi e lì ti rendi conto davvero delle sue conoscenze di geologia con le crepe ossia le strutture che si vengono a creare dalle fratture appunto di queste rocce montane è stato scritto nel 1870 ossia lezioni tenute ad Oxford nel 70 dove lui era docente delle belle arti dove non solo ci offre eloquenti dimostrazioni della conoscenza del mondo dell'arte quello è in dubbio ce lo aspettiamo da un titolo del genere e da Raskin ma non manca anche di stupire lo spettatore lo scrittore del lettore con approfondimenti di natura filosofica teologica spirituale etica morale e quindi da più che lezioni dell'arte e anche lezioni d'umanità anche qui educazione all'umanità soprattutto critica del falso mito del progresso anche qui viene fuori ovvero questo sistema di produzione e consumo accelerato e innaturale che non potrà che finire male almeno questo diceva Raskin nel ottocento fine ottocento l'indice la relazione tra arte e religione la relazione tra arte e morale la relazione tra arte e applicazione e poi gli ultimi tre capitoli un po' tecnici linea luce colore quindi ecco anche chi ama l'arte chi ama dipingere e può trarre da questo tipo di saggi anche degli aspetti tecnici però non solo quello ecco c'è molto c'è molto altro ho un'altra cosina sulla quale mi sono dato da fare insieme a un mio collega un piccolo studio insieme all'Alessandro Di Adamo che è un musicista abbiamo cercato di approfondire il rapporto tra Raskin e la musica l'abbiamo intitolato John Raskin e la musica attraverso l'arte figurativa quindi c'è anche l'aspetto di sinestesia e il rapporto tra due diverse forme di rappresentazione qui John Raskin mostra quanto la filosofia greca e soprattutto Platone siano il suo punto di riferimento non tutti sanno che Platone aveva le sue idee molto specifiche sull'arte ed era molto rigido e soprattutto sulla musica addirittura aveva stabilito dei crimini musicali ecco a proposito di utopia e di distopia tante volte dico pure Platone mappa i crimini musicali però era motivato perché sapeva perfettamente che i giovani in una fase di sviluppo non è bene che ascoltino certi modi lì c'erano i vari modi il dorico e così via e quindi vietava questi modi perché sapeva perfettamente che potevano suscitare una serie di passioni e di emozioni che non avrebbero fatto bene all'anima dell'ascoltatore comunque questo per tirare fuori un paradosso però anche Raskin da questo punto di vista è molto inquadrato per lui l'aspetto morale è fondamentale della musica la musica deve educare la musica deve essere bella e cioè non so Raskin se fosse vivo oggi e ascoltasse quel podi che viene fuori da Sanremo o da qualsiasi altra radio commerciale probabilmente rimarrebbe altro che inebetito come come ci ha avuto lui i problemi di esaurimento nervoso perché in effetti siamo su tutto un altro piano qui la musica non è più elemento di concentrazione come era per Raskin ma è elemento di divertimento è elemento di diversione oggi la musica moderna e contemporanea ma anche puramente di distrattore ha la funzione non so nei centri commerciali proprio di elemento di disturbo quasi poi alla fine ti metti a comprare di più per non pensarci oppure scappi non compri perché se tu sei in un ambiente con una musica piacevole compri più velocemente qui prendi quello che ti serve poi scappi quindi può essere anche un disincentivo al consumismo ma forse una come te e altri che sanno apprezzare il valore della musica ma forse in tanti altri a quel ritmo vanno proprio al ritmo e comprano ancora di più mi spiego allora volevo leggere un paio di passi anche di questi libri che ho citati per esempio lezioni sull'arte ci dice il sottomettere le passioni ritenuto così spesso essere il massimo del dovere nei loro confronti è possibile ad una orgogliosa inerzia ma eccitarle nella maniera giusta e renderle forti per il bene è opera di un'immaginazione priva di egoismo lezioni di questa è molto forte la sottomissione delle passioni che tradizionalmente tutte le religioni tendono a dare questo suggerimento che lui dice spesso sembra una cosa è possibile ad una orgogliosa inerzia cioè vede un certo orgoglio di quello che riesce a sottomettere le passioni in maniera inerte ma il fatto di eccitarle ma lui eccitarle non per il gusto di eccitazione basta ma per poter produrre l'opera d'arte eccitarle in maniera giusta per renderle forti per il bene è opera di un'immaginazione priva di egoismo perché se tu levi l'egoismo a quella passione e la sai eccitare in maniera giusta puoi produrre un'opera d'arte questa era una sua intuizione Sesamo e Gigli si parla del rapporto tra maschile e femminile allora dice noi siamo stolti e stolti senza scusa quando parliamo della superiorità di un sesso sull'altro come se potessero venire comparati in simili cose ognuno possiede quel che l'altro non ha ognuno compie l'altro ed è dall'altro compiuto non si rassomigliano affatto e la felicità e la perfezione d'ambe due dipende dal chiedere e dal ricevere l'uno dall'altro ciò che solo l'altro può dare quindi lui coglie la profonda complementarità del maschile e del femminile e salta a pieppari le polemiche patriarcato matriarcato la chiarezza di quello di come stanno le cose perché questo è un'altra citazioncina la corona dell'olivo selvatico abbiamo detto di questo quando si parla appunto della guerra ecco un tema peraltro molto attuale e il suo capitolo la lettura di questo suo capitolo non è niente male aiuta anche a comprendere le guerre attuali lui dice che i pagani sapevano che la vita ci arreca lotta ma da quella aspettavano la corona di tutte le lotte non una corona di superbia non un certo incastonato di gemme nella guerra nella ricchezza nella tirannia potevano trovare un po' di felicità ma solo una dolce fertile libera pace la corona doveva essere di olivo selvatico selvatico si noti bene l'albero che cresce senza cure con pochi frutti che maturano a stento fa il grigio fogliame dello spinoso tronco abbiamo capito pure che cos'è questa corona dell'ulivo selvatico non è un certo orgoglioso ma è un certo che ci fa cogliere l'umiltà anche del nostro ruolo due parole appunto sulla musica sempre da Raschi nella musica questo era un passo tradotto dal Sestus of Aglaia che è un testo non tradotto nel 66 però ne ho tratto alcuni passi e dice a proposito della musica e dell'arte in generale il primo grande principio che dobbiamo tenere a mente bene quando trattiamo tale materia è che il fine dell'arte non è di divertire e che ogni altra arte che proponga il divertimento come propria finalità o che sia cercata per tale scopo non può che essere di categoria inferiore e probabilmente anche nociva il fine dell'arte è così serio come quello di altre meraviglie il cielo blu i verdi campi le nuvole e la ruggiada tutte cose inutili ovvero hanno un'assai più profonda funzione rispetto al divertimento quindi l'arte le piccole cose sembrano cose inutili lo dice provocatoriamente tutte cose inutili che ci devi fare con la ruggiada con le nuvole non producono profitto eppure hanno qualcosa molto di più rispetto al divertimento quindi l'arte non è divertimento non è divergere è convergere questo Ruskin lo dice con molta chiarezza ecco quindi per tirare le somme di questo incontro un uomo dell'ottocento che però è in grado ancora oggi di dare delle lezioni su quello che noi non solo nel novecento ma in questo nuovo millennio stiamo perdendo a velocità a velocità luce cioè il senso della bellezza il senso anche della logica del logos del considerare effettivamente il maschile e il femminile come due elementi che si compensano e non sono necessariamente da porre in contrapposizione quindi la riscoperta di elementi fondamentali una filosofia elementale che ritorna un po' a quelli che sono i punti fermi il centro dell'esistenza dell'essere umano quindi un autore che può aiutarci molto in questo periodo anche di sommovimento di caos per ritrovare appunto il proprio centro un personaggio con le sue contraddizioni con le sue con la sua umanità ecco perché l'umanità è fatta di contraddizioni di difetti di colpe di tutto e quindi un personaggio che mi ha fatto molto piacere poter raccontare questa sera grazie a te ma tale soprattutto questa cultura ecletica di città per poterci far rendere conto di quanto è importante il nostro status umano il nostro stato di umanità che noi stiamo svendendo a quattro soldi per una intelligenza artificiale o un qualsiasi assafesseria che ci proponga ed è questo uno degli aspetti più insidiosi anzi si dice che nel momento che l'uomo ci sono molti sto facendo delle traduzioni su testi interessanti anche di tradizione islamica che praticamente nel momento in cui l'uomo rinuncerà alla sua umanità ecco che quello sarà il regno il regno davvero dell'avversario perché quello che ti caratterizza è questo è già cominciare a mettere dubbi sulla propria sessualità cominciare a mettere dubbi sulle proprie potenziali intellettive che deleghiamo ad altro ecco che noi ci svendiamo ci degradiamo a essere sub umani se non transumani vengono chiamati ma io chiamerei più sub umano più che transumano Dante che di transumanare ne parla in altri termini che sono quelli davvero reali importanti della trascendenza dell'umano io vedo qui una sub umanità latente e quindi questo è pericoloso John Ruskin con la sua opera è un portavoce di quanto sia importante tenere botta in piedi fermi su questo nostro stato così importante bene io ti ringrazio Edoardo ringrazio il professore Edoardo Ciampi per questa questa introduzione a John Ruskin che può essere l'inizio di una scoperta attraverso la lettura dei libri consigliati e quelli che ha curato e tradotto Edoardo collaborando con Gianluca Marletta su un testo che abbiamo tradotto adesso sull'argomento che poi Marletta è molto competente che è quello di ufologia ma una visione abbastanza particolare un saggio di un americano che ha avuto modo di contattare che ha fatto una lettura molto profonda Gianluca ha fatto la prefazione il libro sta adesso passerà all'editore lo impaginerà e forse lo stampiamo verso marzo con le rivelazioni con queste recenti rivelazioni che fanno parte di un certo gioco che quell'autore ha messo in evidenza con molta chiarezza nel saggio e quindi ritenevamo opportuno tradurlo per intero e vabbè c'è questo poi ci sono altre cose io ti terrò al corrente dai vediamo a parte che Gianluca è di casa ormai siete siete di casa tutte e due quindi mi prenoto già per la presentazione del libro va bene grazie grazie Edoardo Ciampi arrivederci a tutti alla prossima occasione grazie